E' una follia, te ne rendi conto? Cosa ti aspetta? Più di mille chilometri! 1300. Chi si trasferisce qui chiede prima se c'è la banda larga e solo dopo chiede delle scuole. I neo-rurali! Esattamente! Di motivi per andarmene in giro ne avevo a tozzina. Ma il vero motivo del mio fuggire... era scritto su un foglio di carta... che tenevo nello zaino.